Una sfida a colpi di sostenibilità perché l'ambiente in cui viviamo è unico e va tutelato. Con questo obiettivo il gestore dei rifiuti Sei Toscana organizza per il secondo anno consecutivo Ambiente in Comune, concorso che si rivolge alle 104 amministrazioni del lato Toscana Sud servite da Sei Toscana. In palio premi per le amministrazioni che si sono particolarmente distinte o che lo faranno nel prossimo futuro per progetti e iniziative di significativa rilevanza nell'ambito dello sviluppo sostenibile. Per noi è un valore molto alto e significativo. Il premio Ambiente in Comune si pone l'obiettivo innanzitutto di consentire ai 104 comuni che compongono la Toscana Meridionale, che Sei Toscana quotidianamente serve, di avere un luogo nel quale raccontare i progetti e le iniziative in tema di sviluppo sostenibile che vengono ideate e attuate in questi territori. È importante anche il premio perché il premio comunque innesca un processo virtuoso di emulazione. I comuni potranno presentare i progetti già realizzati o pianificati coerenti con gli obiettivi di sostenibilità indicati dall'Agenda 2030. C'è tempo fino al 10 ottobre per partecipare. Il ruolo dell'Università io credo sia il ruolo di un'istituzione che ha cominciato a parlare di sostenibilità ancora prima che ne parlasse il mondo intero e quindi abbiamo potuto mettere a disposizione del progetto che è un progetto essenzialmente di comunicazione e di diffusione dell'informazione le competenze e le conoscenze che noi avevamo accumulato in questi anni.